Sono venuto a trovare Feride qui dopo 5 mesi e mezzo dal trapianto e a ringraziarla per tutto quello che è stato fatto. Sono super contento dei risultati che ho ottenuto, infatti si vedono. E sono solamente neanche 5-6 mesi, ancora devono crescere. Sì, sono solo a 5 mesi e mezzo, la situazione era abbastanza preoccupante perché comunque qui e qui i capelli non ce n'erano, nemmeno qui nella parte iniziale e vedo già un forte infortimento. Quindi ho visto che Feride stava qui a Napoli e sono passata a salutarla perché nell'arco dei 5 mesi lei e Fulia mi hanno sempre contattato, mi hanno sempre chiesto come andava. Io poi qualsiasi problema ho sempre scritto loro e loro mi hanno risposto subito e quindi mi era dovuto venire qui a salutare Feride per dire che era tutto ok e sono super contento.